Gentili telespettatori, buona giornata. Benvenuti a questo video di Tele Italia. Nel Natale 2020 niente regali per un italiano su tre. Quindi il 31% dei connazionali non ha i soldi per poter fare regali di Natale. Guardate che è una cifra enorme, il 31%. Una persona su tre che incontrate, domani, dopodomani, una su tre, non ha potuto fare i regali di Natale, non per tirchieria o chissà cosa, ma perché non ha le possibilità economiche. Quindi a causa di questo clima di sobrietà che ha segnato le feste, dalle limitazioni poste allo shopping e soprattutto delle difficoltà economiche, delle preoccupazioni per il futuro causate dalla pandemia, e quanto emerge dall'analisi col diretti, XE, dalla quale si evidenzia che rispetto allo scorso anno è praticamente triplicata la percentuale di quanti non hanno fatto doni a se stessi o agli altri. Quindi in questo 31% c'è persone che non hanno potuto fare non solo i doni agli altri, ma neanche a se stessi. Sapete quando uno si compra qualcosa? No, niente. Anche il budget di quanti hanno deciso di fare regali è sceso a 175 euro a famiglia. Cioè una famiglia ha speso 175 euro per fare regali a tutti. 175 euro. Il calo è del 23% rispetto allo scorso anno. Quindi lo scorso anno si è speso come 30-40 euro in più a famiglia. Con la maggioranza del 45% delle famiglie italiane che ha speso tra i 100 e i 300 euro. Il 41% sotto i 100 euro. Il 14% dai 300 euro ai 1000 euro. Quindi solo 3 persone su 20 hanno potuto spendere più di 300 euro a famiglia. Quindi regali per se stessi e per gli altri più dai 300 ai 1000 euro. La tendenza è stata quella di indirizzarsi verso regali utili, abbigliamento, giocattoli e cibio tra i più gettonati, davanti a libri, tecnologia e oggetti per la casa. Voi sapete che il libro di solito si regola, quando non sai cosa regalare a qualcuno gli regali un libro. Ma quello non legge, chi se ne frega, intanto tu il regalo l'hai fatto, no? No, dice il libro, ma io non ho mai letto un libro, non sono mai entrato in una libreria, però regalo un libro, perché costa magari 10 euro. Faccio un vedo, guarda, ti ho preso un libro, mi hai preso che? Un libro? Ah, mi mancava, grazie, grazie. Lo leggerò subito, poi ti dico come finisce. Bene. Gli italiani, blindati in casa nei giorni clou delle festività, dice Coldiretti, trovano consolazione nella tavola e il maggior tempo disponibile si traduce soprattutto nelle tendenze a cucinare di più per sé e per i profili, per i familiari. Una svolta che spiega quest'anno il boom dei cesti enogastronomici personalizzati secondo le diverse preferenze. A chilometro zero, tradizionale, vegano, salutarista, green, con le specialità salvate dall'estinzione. Molto richiesti i cesti enogastronomici, scelti da un italiano su tre. Il 34% ha scelto il cesto. Dice, col cesto, no, mi tolgo dalle scatole anche il regalo di Natale con un bel cesto, comprato al supermercato. Ecco, almeno nel cesto ci sono robe da mangiare, quindi si regala un regalo mangereccio, no, piuttosto che magari un libro, visto che, vabbè, il libro lo si regala di solito al conoscente, no, all'amico tra virgolette, questo è il che ti regala un libro, no. Mentre uno si nasconde dietro, eh, ma io non so, guarda, non sapevo bene i tuoi gusti, come faccio a comprarti qualcosa da vestire, bisogna provarlo. E allora ho pensato un bel libro, però io pensavo, non so neanche se tu leggi tanto, poco, però ho detto, il libro secondo me è la cosa giusta. Ecco, tutto per spendere dieci euro. Ma poi un familiare dice, va, cosa gli regalo a mia mamma, mio papà, mio nonno, mio zio, la zia? E gli regalo un cesto, così mangiano, ho visto che magari con i soldi non è, gli regalo un cesto natalizio, almeno questo. I timori legati all'arrivo della variante inglese del Covid e far proseguire l'ondata dei contagi ha spinto molti italiani a regalare a parenti e amici mascherine, no? Ma gel e dispositivi di protezione individuale. Qualcuno di voi ha regalato mascherine a qualcuno? Qualcuno di voi è andato al supermercato e ha detto, guarda, il gel, gli vado a regalare il gel, gli metto sotto l'albero il gel, mentre a mio zio di barletta gli regalo le mascherine, che vedo che usa sempre la stessa. Ma realmente qualcuno di voi ha regalato mascherine? Beh, insomma, magari raccontate sotto il perché. Vabbè, poi ci sono anche i modelli fashion di mascherina, no? Vabbè, ma chi se ne frega del modello fashion di mascherina? Ma dai, c'è veramente chi si... Beh, non l'avete visto nei telegiornali quelli che hanno la mascherina alla moda, no? Con la faccia disegnata, oppure la griff qua, no? Cippalippa, che ho scritto anch'io compro Cippalippa. Ma così, vabbè, a parte queste cose, diciamo che Coldiretti si è impegnato in una capillare operazione, poi, di solidarietà, perché dicono, nonostante le difficoltà economiche, il 41% degli italiani quest'anno, in occasione delle festività, di fine anno ha deciso di fare donazioni, azioni, beneficenza o volontariato. La Coldiretti si è impegnata in una capillare operazione di solidarietà nei mercati degli agricoltori di campagna amica e negli agriturismi, dove è possibile contribuire alla spesa sospesa del contadino. Tutti i cittadini che fanno la spesa nei mercati, nelle fattorie della campagna amica, diffusi lungo la penisola, possono decidere di donare cibo e bevande alle famiglie più bisognose. Va bene, comunque, triste pensare che un italiano su tre non abbia i soldi per fare neanche un regalo, neanche un regalo. Sapete che di solito qua magari ci sono dei posti dall'importatore cinese, dove magari trovi un'imitazione della barbie a un euro, non avere neanche un euro per fare il regalo magari al nipote, alla niposi, ti regalo questa bambola, anche che ci sono, ci sono delle bambole, dei giocattoli che chiamiamoli dal cinese, nel negozio cinese costano poco. Certo, si vede che costano poco, si vede come sono fatti, però a volte magari è importante magari solo il gesto più che il contenuto. Io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci.